Buongiorno a tutti, adesso ci siamo accomodati, auguro buona giornata innanzitutto ai dottorandi, non so se chiamarli ancora dottorandi o già dottori, ma magari li chiamiamo dottori, la proclamazione è già avvenuta, quindi sono tutti gli effetti dei dottori, oggi è una cerimonia celebrativa, do inizio alla cerimonia di consegna dei diplomi di dottorato del trentunesimo ciclo del dottorato e ho l'onore di introdurre il nostro magnifico rettore che ci dirà qualche parola da parte di tutto l'Ateneo. Grazie, benvenuti, è un piacere essere qui, grazie dell'invito naturalmente, voglio ringraziare il Presidente della Camera di Commercio e tutto il suo staff per l'ospitalità, il dottor Fabio Lunghi e tutto il suo staff naturalmente e vedete che bella sede c'è. Volevo una bella sede perché oggi celebriamo la bellezza, la bellezza del sapere, ovvero l'alta formazione, non c'è università se non c'è alta formazione. Per noi l'alta formazione è un obiettivo da perseguire, da raggiungere ma anche da superare. Quello che chiedo sempre a tutti i colleghi del dottorato è di superarsi, di dare sempre di più per portare qua elementi migliori perché solo nell'alta formazione un'università si riconosce alla fine ed è il compimento di un percorso lungo e faticoso da parte di questi giovani che però sono il nostro futuro e rappresentano anche quello che noi valiamo alla fine perché se noi riusciamo a formare bene questi giovani naturalmente vuol dire che anche noi abbiamo una valenza. Il futuro è loro, la bellezza del sapere è loro, la bellezza anche degli anni è loro naturalmente. Il compito nostro è indicare la strada, accompagnarli. La mia richiesta è sempre più pregnante di fare dei dottorati legati sempre di più a quello che può essere poi un domani un lavoro, è importante perché il dottorato da noi è e diventerà sempre di più un marchio di qualità per cui l'attrattività che darà fare un dottorato da noi. La difficoltà a volte di entrare in un dottorato presso il nostro Ateneo sarà sempre più richiesta questa cosa, quindi noi dobbiamo lavorare in questo senso perché a un certo punto un ragazzo, una famiglia che fanno dei sacrifici devono avere in cambio qualcosa poi dispendibile nel mondo reale, indipendentemente dalla disciplina, ma deve essere un sapere che ha un qualcosa in più. Questa è l'alta formazione, quindi ormai sapete una volta bastava, una volta non serviva la laurea, ai miei tempi bastava un diploma, poi dopo c'è voluta la laurea, poi ci sono volute le scuole di specialità e adesso ci vuole il dottorato. Ma non deve essere un dottorato astratto che è un proseguo o un biglietto di entrata per una carriera accademica, deve essere un dottorato comunque utilizzabile nel mondo del lavoro. Per cui coltiviamo qui le migliorimenti, voi siete quello che di meglio noi siamo riusciti a esprimere e spero che voi siate altrettanto contenti come lo sono io e questa è una giornata che, come dico sempre, è un punto di partenza, non è un punto di arrivo. Siete arrivati fino qui, inizia un nuovo percorso adesso, qualcuno entrerà in accademia, qualcun altro si rivolgerà al mondo del lavoro. L'importante è che non perdiate mai l'entusiasmo che vedo oggi sulle vostre facce, il sorriso, la felicità di partecipare, di voler crescere, perché noi cresciamo quanto crescete voi, nel senso che il rapporto docente-discente è bilaterale. Noi ci alimentiamo della vostra gioventù, del vostro entusiasmo, per cui tutti noi docenti continuiamo a rimanere attivi perché voi ci trasmettete questo entusiasmo e noi cerchiamo di trasmettervi la nostra saggezza, in qualche caso il nostro sapere sicuramente. Ed è un rapporto di reciproco scambio, questo è il bello dell'università, un luogo aperto ai saperi, un passaggio di conoscenze, ma anche un passaggio di esperienze e l'essere una grande famiglia. La cosa più bella è quando a distanza di anni un collega si riconosce nell'università dove ha studiato, è creare questo senso anche di appartenenza. Il senso di appartenenza avviene se ci sono delle connotazioni importanti, se il collega che ha frequentato ha avuto un'esperienza positiva e ha dei bei ricordi e continua a stimare la sua accademia, la sua università. Quindi oggi è un inizio per voi, che rimarrete sempre nella nostra mente e spero anche che ci continuerete a frequentare. Vi auguro una splendida giornata di festa naturalmente e grazie di essere qui con noi. Grazie. Ringrazio a nome di tutti il magnifico rettore per questo inizio così caloroso e un po' orgoglioso per i nostri dottori di ricerca. Io non ho molto altro da aggiungere. Ciò che noi docenti dei dottorati vogliamo esprimere per i nostri allievi e ragazzi e futuri colleghi, l'ha già espresso bene il rettore. Io vorrei dire solo due parole brevi, poi lasciamo spazio a chi se lo merita oggi. Vorrei dire innanzitutto che mi associo e tutti i coordinatori che sono qui con noi si associano ai ringraziamenti alla Presidenza della Camera di Commercio per averci dato la possibilità di svolgere questa cerimonia qui nella Sala Campiotti. Penso che sia la prima volta che succede, quindi ci fa molto piacere perché è anche un modo di sentirsi un po' più vicini alla cittadinanza. E poi volevo dirvi che abbiamo cercato oggi di improntare questa cerimonia sull'idea che abbiamo del dottorato. E quindi dopo di me inviterò qui sul podio a parlare due personaggi molto interessanti. Il dottor Tagne, il quale è un nostro neodottore che ci racconterà le sue esperienze. Il dottor Tagne viene dall'estero, ha viaggiato, ha lavorato all'estero e poi è arrivato qui a fare il dottorato con noi. Lo presenterà il professor Marco Cosentino che è stato il suo coordinatore di dottorato. Così avremo l'idea di che cosa significa per un giovane laureato del mondo, non di Varese, del mondo, iniziare in un altro paese con delle altre persone, delle altre tradizioni, un ciclo di dottorato. Quindi lui è l'esempio di come ci si prospetta nel mondo d'oggi, nel mondo globale di oggi. E poi avremo l'onore di sentire la relazione del professor Mark Brewer, il quale è un esperto di internazionalizzazione. Il suo profilo verrà ben descritto dalla professoressa Barbara Pozzo e lui ci parlerà di come il dottorato può aprire le porte per questi giovani esperti che diventeranno gli esperti del futuro, esperti che la comunità europea individua come coloro che saranno portatori di nuove tecnologie, di globalizzazione delle tecnologie e delle scienze, sia scienze dure, sia scienze biomediche che ovviamente scienze umane. Quindi mi piace vedere la giornata di oggi come questo passaggio dall'inizio della carriera dello studente che poi diventa dottore di ricerca alla proiezione verso il futuro, un futuro europeo, internazionale, come ci spiegherà bene il professor Brewer. Ringrazio ancora tutti per essere intervenuti. Una cosa vorrei dire, abbiamo l'onore di essere citati domani sulla prealpina. Tutti i ragazzi che sono qui presenti verranno citati. La prealpina dedicherà un paio di pagina a questa cerimonia, quindi mi fa piacere dirlo che insomma anche sul territorio questa cerimonia verrà considerata e valutata. Lascio quindi la parola ora al professor Cosentino che ci introdurrà la figura del dottor Tanie. Prego Marco. Buongiorno a tutti e grazie prima di tutto alla professoressa Negrini, coordinatrice della scuola di dottorato per l'organizzazione di questa giornata, al magnifico rettore per il suo saluto e a chi ci ospita. Io devo dire che quando la professoressa Negrini ha sollecitato i coordinatori a segnalare dei neodottori di ricerca che potessero partecipare a questa giornata ed eventualmente portare la loro esperienza, il nostro collegio di dottorato in maniera decisamente unanime e convinta ha identificato immediatamente il dottor Alex Mabuttagne proponendolo per questa cerimonia per tutta una serie di motivi che stanno sia sul suo piano personale sia io credo soprattutto dal punto di vista di quelle che sono le priorità e le strategie del nostro dottorato di medicina clinica e sperimentale all'interno in realtà del programma di dottorato di questo Ateneo. Dal punto di vista personale, ma io su questo non mi soffermerò molto, comunque la valutazione nostra dell'esperienza di questi tre anni di lavoro insieme al dottor Mabutt è estremamente positiva. Si tratta di una persona che viene già da un percorso universitario di ottimo livello, con una laurea con il massimo dei voti alla Lode, che è arrivato con grande entusiasmo e che ha lavorato con grande applicazione. Tuttavia, dal punto di vista del collegio dei docenti, del nostro programma di dottorato, io devo dire, noi consideriamo esemplare l'esperienza avuta con il dottor Mabutt, come in realtà con diversi altri dei dottoranti nostri, ma è con l'esperienza del dottor Mabutt, spicca particolarmente, per una serie di motivi che possono essere brevemente riassunti in questo modo. Si tratta di una persona che si è candidata anni fa per entrare nel nostro programma di dottorato con una motivazione ben precisa legata a un interesse specifico di ricerca scientifica su temi sviluppati sistematicamente e istituzionalmente da alcuni gruppi di ricerca che fanno parte del collegio dei docenti del nostro dottorato. Una volta ammesso, devo dire, dopo aver sostenuto una brillante prova di selezione, ha lavorato immediatamente con grande entusiasmo, sia apprendendo tecniche e modelli sperimentali fondamentali, sia contribuendo anche autonomamente a sviluppare diverse strategie di ricerca anche originali. I risultati che ha ottenuto sono stati anche molto rapidamente oggetto di pubblicazione prima ancora che si presentasse a discutere la tesi, quindi ha discusso anche una tesi di quelle che si definiscono per pubblicazioni, che noi riteniamo essere forse lo standard migliore, che certifica anche di fronte alla Commissione per il conferimento del titolo un'oggettiva eccellenza del percorso di un candidato. E soprattutto, visti anche i parametri su cui oggi si pone, credo anche abbastanza giustamente una certa enfasi, i risultati del suo lavoro hanno contribuito a sviluppare e a consolidare dei programmi di ricerca istituzionali che comprendono anche delle collaborazioni con con soggetti privati anche in vista di applicazioni specifiche. Il nostro è un ambito medico, clinico, terapeutico, applicazioni specifiche dei risultati del suo lavoro che sul piano anche personale hanno fruttato da parte di questi soggetti con cui l'Università ha delle collaborazioni consolidate e istituzionali anche il sostegno per un ulteriore anno di post-dottorato. E in questo ulteriore anno, e questo è l'ultimo aspetto che credo valga la pena sottolineare, in questo ulteriore anno, da un lato il dottor Mabu ha colto l'opportunità per completare tutta una serie di lavori e dall'altro anche di sfruttare l'opportunità di stare all'interno di un'università che di per se stessa si caratterizza anche per dei rapporti con soggetti anche esteri molto qualificati e la sua prospettiva al termine di quest'anno è di trasferirsi, credo che si possa dire insomma l'obiettivo è quello quasi raggiunto di trasferirsi negli Stati Uniti dove svolgerà un periodo di post-dottorato e gli auguriamo ovviamente che questo sia un ulteriore passo verso la carriera brillante che oggettivamente dal nostro punto di vista decisamente merita nell'ambito della ricerca. Un ultimo aspetto che voglio sottolineare che è collaterale da un certo punto di vista ma anche questo probabilmente contribuisce all'esemplarità diciamo dell'esperienza, il dottor Mabu ha cominciato il suo programma di dottorato quando ancora la bolsa di dottorato era di mille euro al mese, non sono mille lire ma anche mille euro insomma sono al di sopra dei 760 canonici ma non di troppo. Tuttavia io credo che un elemento decisivo nel consentirgli di scegliere una sede come questa che lo ha attirato prima di tutto per l'aspetto scientifico è stato il fatto che quando lui ha presentato domande il nostro Ateneo aveva varato un programma che riservava alcuni posti specificamente per dottorandi in particolare credo provenienti dall'estero presso la neo inaugurata residenza universitaria. Questo credo sia stato un elemento decisivo da un lato a testimonianza di una strategia del nostro Ateneo verso un'offerta di servizi a supporto dei giovani che vogliono trascorrere degli anni di formazione presso le nostre strutture e dall'altro appunto a testimonianza che anche attraverso soprattutto attraverso questi aspetti di tipo molto pratico e concreto si promuove sicuramente l'internazionalizzazione ma credo anche e soprattutto la possibilità di accogliere quei giovani più brillanti che vengano dall'Italia o dall'estero ma che arrivano con una particolare motivazione che poi consente loro di svolgere un percorso per certi versi ideale. Quindi io non posso a questo punto fare altro che invitare il dottor Alex Mabutagne a fare la sua presentazione e dal mio punto di vista anche a nome del nostro collegio dei docenti noi come dottorato di ricerca non possiamo invece che augurarci di avere per il futuro molti altri candidati che abbiano il suo profilo. Molte grazie. Prego Alex. Buongiorno a tutti. Mi chiamo Alex Mabutagne e sono qui per raccontarvi la mia esperienza di dottorato. Durante il mio percorso di dottorato mi sono occupato di studiare le varie strategie di sviluppo di nuovi farmaci, partendo però dalle fonti vegetali, ovvero dalle piante medicinali. Il mio programma di ricerca è nato innanzitutto da una motivazione personale. Uno dice, come capita sempre. In effetti sono cresciuto in un ambiente in cui si credono tanto, ma tanto tanto, nelle proprietà terapeutiche delle piante. E quando ho avuto questa occasione di fare un dottorato di ricerca mi sono lanciato nell'avventura che consisteva di confermare queste credenze. Il secondo motivo è abbastanza banale e sta nel fatto che il bisogno di nuovi farmaci ce n'è. E in questi ultimi 30-40 anni è stato introdotto nell'ambito farmaceutico l'uso dei robot che da soli sono in grado di combinare tante molecole di origine sintetica e allo stesso momento testarli su vari modelli sperimentali. Le case farmaceutiche questa tecnologia ce l'hanno venduta come essendo una tecnologia rivoluzionaria che andava cambiato tutto, che niente non sarebbe più come prima. Ma poi alla fine la montagna, posso dirlo, la montagna ha partorito un toppolino. Se per esempio andiamo a guardare questo grafico che ci fa vedere l'andamento temporale nella produzione o meglio ancora nella messa in commercio di nuovi farmaci vediamo che in questi ultimi 10-15 anni c'è stato un callo, se no una riduzione nella messa in commercio di nuovi farmaci. Questo mi porta a tornare a dire che il bisogno di nuovi farmaci ce n'è. L'ultima motivazione mia sta nel fatto che e questo è ben noto in letteratura i composti di origine naturale in generale in particolare i composti di origine vegetale sono biologicamente molto attivi e la spiegazione è abbastanza tecnica però ci provo di spiegare se noi andiamo a guardare nella struttura chimica di queste composte vediamo che hanno un caratteristico ampio spazio stereochimico e è questo che contribuisce poi a aumentare la loro attività biologica. Detto questo, uno dice ma da quale pianta partire? Visto che di piante medicinali ce ne sono tante. La mia tesi di laurea vi propone due strategie. La prima consiste ad andare a consultare la letteratura e questa mi ha portato a avviare questo progetto di ricerca che consiste a studiare questa pianta che vedete qui. Questa pianta si chiama Tittonia diversifolia non cresce in Italia cresce da me, giù in Camerun cresce dappertutto per strada e viene anche considerata come brutta erba. Sono stato proprio personalmente stupito dal fatto che alla fine di questo studio ho scoperto che è una pianta con tante proprietà terapeutiche. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto una revisione sistematica della letteratura. Non solo ci siamo soffermati alla letteratura così definita scientifica cioè andare a cercare su PubMed piuttosto che ScienceDirect ma anche siamo andati a guardare nella letteratura definita grigia cioè quegli lavori non ancora pubblicati e siamo riusciti alla fine di questa consultazione di raccogliere circa 1772 articoli dopo uno screening basato sulla lettura dei titoli piuttosto che degli abstract finalmente siamo riusciti a raccogliere circa 165 articoli. li abbiamo letti tutti e questo ci ha portato a questo lavoro che viene riassunto su questa immagine. Come vediamo qui la titonia ha tantissime proprietà biologiche. La più importante è quella sua attività antinfiammatoria. La seconda strategia consiste a scendere sul campo cioè a andare presso la popolazione per indagare l'uso che si fa delle piante e questo ci ha portato a stilare un accordo di collaborazione con una grande università in Camerun l'Università di Chang grazie a questo accordo di collaborazione abbiamo avviato uno studio di indagine presso i pazienti con l'HIV per indagare sull'uso che fanno delle piante medicinali. Come risultati abbiamo visto che su 247 pazienti 54,9% usano le piante qualcuno per trattare i sintomi della malattia qualcun altro per trattare gli effetti avversi indotti dall'uso degli antiretrovirali. La cosa importante è stata che due persone hanno dichiarato di essere stati guariti con l'uso delle piante medicinali. Detto questo il passo successivo nello sviluppo di nuovi farmaci consiste poi a selezionare il modello sperimentale su cui valutare l'attività farmacologica della pianta e questo ci ha portato a studiare una pianta ben conosciuta la cannabis va di moda anche adesso con il dibattito sulla legalizzazione o la non legalizzazione della cannabis. Qual è il problema della cannabis? Il problema con la cannabis è che contiene una sostanza che si chiama THC tetraidrocannabinolo che ha degli effetti psicostimolanti e a livello europeo ma anche in Italia la legislazione consente la vendita della cannabis però con un tasso di THC inferiore allo 0,2% grazie a un accordo di cooperazione con una casa farmaceutica multinazionale svizzera siamo riusciti a sviluppare un estratto di cannabis particolare che l'abbiamo chiamato il CM5 è particolare nel fatto che il CM5 contiene un tasso di THC quasi pari a 0 ma allo stesso momento abbiamo incrementato un altro componente della cannabis che si chiama il cannabidiolo abbreviato CBD abbiamo standardizzato il nostro estratto al 5% di cannabidiolo e poi abbiamo avviato questo progetto di ricerca allo scopo di valutare l'attività anti-infiammatoria del nostro estratto di cannabis in comparazione con il suo componente che si chiama il CBD il cannabidiolo come modello sperimentale abbiamo scelto di lavorare sui neutrofili perché il primo motivo è perché i neutrofili sono le prime cellule a arrivare sul sito dell'infiammazione per questo sono in grado di attraversare le barriere biologiche tramite il processo così definito di migrazione una volta nel sito dell'infiammazione i neutrofili possono rilasciare composti pro-infiammatori quali abbiamo le specie reattive dell'ossigeno e le citochine pro-infiammatorie quindi la nostra ipotesi di ricerca è stata questa se abbiamo una sostanza in grado di inibire le funzioni o meglio ancora la funzione dei neutrofili questa sostanza potrebbe avere un'attività anti-infiammatoria e in effetti siamo andati a isolare dal sangue umano i neutrofili su cui abbiamo eseguito i nostri esperimenti cosa è venuto fuori è venuto fuori che si ha il nostro estratto di cannabis CM5 che il cannabidiolo tutti e due inibiscono il processo di migrazione ma anche inibiscono la produzione delle specie reattive dell'ossigeno e la produzione delle citochine pro-infiammatorie la cosa più interessante è stata che andando a confrontare l'attività del cannabidiolo con quella del nostro estratto CM5 abbiamo visto che per quanto riguarda la migrazione se vediamo quest'ultimo pannello del nostro grafico vediamo che il cannabis è più potente rispetto al cannabidiolo il nostro tentativo di spiegazione è stato questo visto che nell'estratto di cannabis oltre al cannabidiolo ci sono altre molecole può essere che queste molecole interagiscono con il cannabidiolo potenziando la sua attività detto questo l'ultimissimo passo nel processo di sviluppo dei nuovi farmaci è ovviamente di andare a testarlo sull'uomo e questo ci ha portato sempre in accordo con la Linnea quella casa farmaceutica di avviare questo progetto di studio che consisteva nell'andare a testare l'effetto di un prodotto naturale che si chiama il 7-idroximatairesinolo l'HMR sui pazienti obesi o in sovrappeso dopo un anno e mezzo di lavoro abbiamo ottenuti risultati abbiamo portato fuori dei risultati che adesso non sono in grado di divulgare su questo vi ringrazio per la vostra gentile attenzione ci complementiamo senz'altro col dottor Tagne per i risultati conseguiti e anche per l'originalità di questo tipo di ricerca chissà che si ritorni davvero a dare più risalto agli aspetti naturali che la tecnologia portandoci avanti non ci riporti un po' indietro va prendendo le cose buone del passato delle tradizioni anche che sono state spesso trascurate e dimenticate bene allora invito la professoressa Barbara Pozzo a sua volta a presentare il professor Mark Priver grazie mille ringrazio moltissimo la professoressa Negrini per l'organizzazione di questa cerimonia ringrazio anche moltissimo la Camera di Commercio per averci ospitato qui oggi penso sia un giorno molto molto importante due parole sul dottorato in diritto e scienze umane nell'ambito del quale si colloca anche la presenza del professor Buer che è stato molto felice di partecipare a questa cerimonia di consegna dei diplomi la visione del diritto come quella che ci aveva fornito Manzoni con la zecca Garbugli è qualcosa da dimenticare l'avvocato di oggi il giurista di oggi è un essere che almeno dovrebbe consultarsi con le altre scienze essere dinamico sapere lingue diverse andare incontro a quelle che sono culture profondamente diverse e ovviamente interrogarsi su quello che è il ruolo del diritto nella società contemporanea nel dottorato di ricerca in diritto e scienze umane si cerca proprio di stabilire questo dialogo tra diritto e altre scienze e altri saperi al fine di riuscire ad arricchire sia la preparazione del giurista così come quella degli altri scienziati che in un modo o nell'altro si confrontano sempre con delle regole e proprio la presentazione che abbiamo appena sentito mi ha ispirato moltissimo perché uno dei più recenti filoni di indagine è quello della tutela o della tutelabilità dei saperi tradizionali e quindi l'idea che il diritto possa in qualche modo centrare un po' dappertutto è qualcosa che mi affascina e che è qualcosa che vi vorrei presentare il professor Brewer nella presentazione che vi farà che ha preparato per questa per questa occasione tenta proprio di analizzare quale possa essere il ruolo delle big corporations quindi delle grandi multinazionali in tutta una serie di contesti sociali che possono essere anche fragili per certi versi nell'innalzamento della protezione dei diritti umani se voi guardate queste due parole multinazionali diritti umani all'inizio vi sembrano quasi diciamo così agli antipodi in realtà se studiata approfonditamente una azione delle grandi multinazionali in tutta una serie di contesti può portare ad un innalzamento proprio di tutela di questi diritti tra virgolette fragili ma lo stesso vale in mille altri settori come può essere quello ambientale come può essere quello della sostenibilità and now let me switch to English in order to present our dearest colleague Dr. Mark Brewer is assistant dean at Sheffield Business School in the United Kingdom he received his PhD from the University of St. Andrews in the UK he's a juris doctor from Cornell University in the US and his master in German and European law and practices from Humboldt University in Berlin Germany prior to this academic career Mark was a capital markets lawyer with the law firms Linklater and Clifford Chances where he advised the major international banks multinational corporations and governments on a variety of international financing projects he has received a number of fellowships in the United States Canada the United Kingdom Germany and Switzerland and now you're here dear Mark in Italy his research focuses on the role of corporations in society and how they can contribute to sustainability regional development empowering communities as well as promoting human rights please Mark I leave you the floor and I thank you very much for being here today thank you very much applause applause mille grazie buongiorno and now I'll switch to English so to put my talk into context I'm delighted to be here to help you celebrate on such a happy day congratulations it's always humbling to me to see so many different academic fields represented the wealth of knowledge that we have in this room is exciting and my research stems from my inability to focus I am fascinated by a number of different areas in fact I started my career as a student of physics but then became a lawyer and then ended up working in with businesses and now I try to combine an interest in many different areas and one thing that has always motivated me is to look at how companies very big actors in society what are their responsibilities because we created them the law created them they are creations of the law legal persons that have rights but I'm not sure we've fought so much through in terms of their duties as societal actors so against that background most of my research looks at how do companies act in society so today I wanted to first of all look at how that has evolved and primarily at the international level I'm looking at large public international companies so I'll put that caveat in and then I'll look at one area that has been very successful in helping companies create something positive where the law didn't have the ability to do it on its own and then I will present some of my current research that I'm finishing off now that looks at a similar challenge so against that backdrop I will start my formal presentation as I mentioned I'll present a little background on companies in general and then I'll look at the theoretical debate between how we perceive a company and what we fight about in the university when it comes to how we present the company then I'll look at the limits of law to enhance behavior for companies then I'll look at what are called conflict minerals and I'll come back to that maybe some of you have seen the film Blood Diamond it was a film that was out several years ago Leonardo DiCaprio was the the actor and it had to do with the impact of the diamond trade on human rights so it's really exciting when you can sort of see Hollywood promoting issues that we could talk about in the university it makes students much more exciting but the reality is that it can have a huge impact on the development of law and raising awareness then I will look at ways that we can take that example and use it to address other areas and the last thing I will leave you with is some research that I'm doing in the area of statelessness there are about 10 million people around the world that are stateless and these people are in danger of of forced labor modern day slavery and a number of other terrible possibilities because they have no legal rights and the research that I've looked at deals how companies that oftentimes have employees within their supply chains that they can help so that their children can avoid these situations but first let's start at the beginning what is the personality of a corporation we all have ideas about a corporation but let's think it through because the law created it we've chosen to empower an entity called a corporation a corporation is simply a group of people one or more shareholders who work together and are offered the protection of limited liability and they can be sued and they can sue so in many ways legally they're similar to you and to me they're persons they're legal persons the law considers them legal persons I think a big distinction comes with natural persons which is you and I when we consider the duties that we have as a society we all have expectations about what we do and indeed these ideas have crept in through the law and the idea of negligence in tort and in other areas of the law but because corporations are legal entities the law doesn't have quite the same ability and society doesn't have quite the same ability to force companies into being good citizens in the way that we can force one another to be good citizens we do this socially all the time we ostracize people who we disagree with we encourage each other to take part in community activities we take an interest in the news we help our neighbors the distinction when you have a legal person is you don't have those same expectations from society but I do ask the question should we not and I think that's where the law makes it a little bit difficult let me tell you why at least in the Anglo-American concept of a corporation which has been very influential in the development of multinational corporations we've had an idea that a company exists for the pure purpose of maximizing shareholder value the Nobel laureate Milton Friedman once said there is one and only one social responsibility of business to use its resources and engage in activities designed to increase profits and that idea has been influential in creating the shareholder value model which is the dominant model that we teach in law schools in Anglo-America it's the dominant model that academics have when we deal with a corporation and it's very influential in the decision making of courts when companies have lawsuits so what does this theory hold well the theory holds that officers and directors owe a fiduciary duty a fiduciary duty is a type of duty that you owe because of some relationship you have with someone but they owe a fiduciary duty to shareholders and only shareholders that means that the officers and directors of the company have to legally make decisions only for the benefit of those shareholders and any other possible claimants could only be protected by contract what does that mean well courts have struggled with that concept because there have been a number of cases that have tried to interpret what it means to owe this fiduciary duty to shareholders and academics haven't necessarily helped we've suggested often that that means maximizing the shareholder value often in the short term so often this is I think mistaken to represent that company profits have to increase every single quarter when that happens decisions are made in a very short time frame that might maximize shareholder value in the short term but over the long term it's probably destroying wealth so that's where there has been a challenge to this dominant theory and I think the sort of challenging theory against the very strict shareholder theory is a theory that looks more at stakeholders and it says that actually we accept that companies must maximize shareholder value however the time frame should probably be longer and we should consider how can you actually maximize shareholder value if you're not considering your various stakeholders so stakeholder analysis will look at what are your employees how do they relate to the good functioning of a company have you considered your local community have you considered other types of actors that might influence your corporation because over the long term they will indeed be key to the long term survival and success of a corporation so when we think about stakeholder theory we're thinking about employers customers the local community and civil society so against those two I guess main ways of looking at companies let's look at where the law limits what companies can do indeed a number of international laws provide guidance on what we should do as a society there are many international agreements many UN rules and agreements that promote human rights and we are bound under international law to respect these as are companies however the problem is that many of these public international laws lack a proper enforcement mechanism and therefore we rely on the international community to respect these laws but that doesn't always happen and we don't always have a good forum to help educate people on the obligations therefore we continue to struggle with environmental degradation with climate change with poor labor standards and the supply chains of many companies modern slavery and other human rights abuses and these are often happening in areas where the largest multinational corporations are operating so to me that's very exciting because that provides an opportunity for corporations to engage in those communities because engaging in those communities can help promote development can help change the lives of the people that are involved in the supply chains so I think it does have to be recognized though that oftentimes we in the academy we in universities sometimes are very detached from reality particularly legal scholars we like to think of corporations in a very theoretical sense and what we fail to do is to see how they function in the real world and I would like to marry the two so that we are actually getting beyond just discussing about oh what can the UN do to create this law oh what can parliament do to create a law because laws are fine but unless they are used or unless they create change they will be useless so let's take a look at how we can create a more rich environment to promote this so because we have these two debates on either maximizing shareholder value in the short term or considering all of our stakeholders how do we square that circle well the concept of sustainability and corporate social responsibility is the idea that corporations should look at the actions they take and try to make decisions in a way that will make them more sustainable it makes good business sense because it maximizes the success of companies over the long term because it tells companies to consider the ecological social political and economic issues of their decisions so rather than making a decision for the short term they look what will this decision look like in 10 20 30 years in terms of the use of resources what will this look like for the environment in terms of community development what will this look like for my future employees for my future consumers so I think there's it provides a very good guideline for trying to make companies think in a more future oriented way over the longer term the problem comes in is how do you achieve that so here's where I think we should look much more closely at bringing the ivory tower closer to the business world and recognize that there are wonderful steps that we can bring together to engage companies to bring those that are involved with business decision making into the realm of trying to create solutions and we do this the UN global compact and other agreements engage companies to pledge to make decisions in a more sustainable way and that's very helpful and that has helped companies think through ideas however it doesn't go quite far enough because we continue to suffer from environmental degradation from problems with human rights climate change and all sorts of other global problems one area that represents in my opinion a really intelligent way to bring the two together is what's called the response to so-called conflict minerals I mentioned the film Blood Diamond a while ago I think before it got the attention in Hollywood few people had much of a knowledge of the impact that certain industries have in fueling civil strife and fueling wars conflict minerals for those of you who might not be familiar refer to tin tantalum tungsten and gold and they are mined in the democratic republic of the Congo and neighboring countries and over the past few years the proceeds of conflict minerals have helped to fuel the civil strife and the violence that have killed about five million people and the problem is that we anyone that has a phone anyone that may have jewelry anyone that has any electronic devices relies on these types of minerals in the production of what we use every day and the added challenge comes in when it comes to traceability gold is gold how do we know where it comes from without understanding the supply chain supply chains can make it very difficult to trace the origin of a raw material yet that raw material could be supporting violence so what happened with the awareness the greater awareness of the impact of conflict minerals is there was a desire to do something to change the situation and the United States adopted a financial law in fact this had nothing to do with conflict minerals per se it had everything to do with the financial crisis of 2007 2008 however at the time there was a lot of lobbying going on of how we can creatively put this in to try to help companies do better so provision section I'm sorry this is section 1502 it says 1508 but I meant 1502 sorry about that that typo it's section 1502 of the Dodd-Frank Act actually requires companies to disclose the origin of the raw materials they have if they have those types of raw materials in their supply chain so it now requires companies to have an obligation to understand their supply chains that's hard so the law says if it's too hard tell us so it does change behavior because now companies must disclose first of all do they know where their raw materials come from and if they don't they need to disclose they don't have the provisions in place to check that that in turn raises consumer awareness therefore there's a public record of it for consumers that want to check also for civil groups civil society that want to help improve this situation and this has led to a much greater awareness of where we actually take our raw materials from and it has had a real impact on lowering the possibility that these raw materials continue to fuel such violence and in fact the UK and the EU have adopted similar rules and there have been other initiatives throughout the world China for example has adopted rules to look at how to alleviate these problems So I think conflict minerals provide an excellent aspect of how we can change corporate behavior by just changing a few requirements, changing what companies are required to report. We're not telling companies they can't continue to make iPhones or jewelry or any other things that we all rely on, we're just asking them to be responsible in how they source their material and to understand. And this in turn has created a much greater public awareness of supply chains and where raw materials come from. So my interest in statelessness is similar it's very hard to solve the problem of statelessness there are many UN agreements that make it legally impossible for anyone to be stateless it is legally impossible to be stateless according to the law yet 10 million people are stateless what does stateless mean? stateless means that you have no citizenship when you have no citizenship you have no legal person you don't exist under the law technically if someone commits a crime against you there might not be a remedy there might not be a remedy because the law doesn't actually see you as a person therefore it makes it very difficult to prosecute people who engage in modern slavery enforce prostitution and in other things that we really want to eradicate now there are ways to prosecute these people but the fact that there is that the potential victim lacks the protection of a state and even a legal being means that they have a much harder time legally but not just legally socially they're not entitled to medicine they're not entitled to an education and often times they're on the fringe of society because they don't have the legal right to be anywhere so we know the law makes it impossible to be stateless the public international law has numerous UN agreements that make it impossible for there to be stateless for anyone to be stateless yet we have 10 million people what's the problem? well the problem is statelessness is hard to identify and statelessness is hard to understand how it happens so what some of my research looks into is how can we create a system where companies can help the workers in their supply chain understand the law where they are to avoid their children falling into the state of statelessness how does this work? well let me explain the supply chain of many companies and I'll just move to my next slide because it's sort of I've got some examples here the supply chain of the sugar industry for example in the Dominican Republic a number of the workers in the sugar industry in the Dominican Republic are of Haitian origin or Haitian so when they move to the Dominican Republic as migrant workers they don't have the protection that they would have if they were citizens of the Dominican Republic and unless they register their children within a certain amount of time their children will not automatically get Haitian citizenship and they will not get the citizenship of the Dominican Republic either which will mean they will be stateless that's an administrative error or an administrative burden that's very easy to overcome all you have to do is to ensure that someone is registered within a certain amount of time companies are very well placed to know where their employees are located and can provide some advice it wouldn't cost much I know but it also provides the company a great story to show how they're engaging with society with their local community it gives them a potential consumer base a larger consumer base it gives them a larger possible employee base it's not just the sugar industry the palm oil industry in the state of Sabah in Malaysia has a similar problem in fact the Malaysians have done fantastically in trying to eradicate this they've worked very very hard but for a number of years there were migrant workers from other parts of Southeast Asia that would come to Malaysia and if they had children while they were there they would not be entitled to citizenship in Malaysia nor would they necessarily receive the citizenship of their parents' country unless they did certain administrative tasks and we find a number of issues there the textile industry is a project that I'm working on now the clothes that we wear are manufactured all over the world and a number of the workers within the textile industry are migrant workers so they run the risk of falling into the trap of statelessness for their children so to summarize this we have a similar problem where the public international law makes it impossible to be stateless however statelessness still persists and it's very prevalent within many states that have a very important manufacturing base that leads to the products that we buy so what I propose is to use the same sort of template that we had for the conflict minerals and have more requirements that companies disclose whether or not they have checks within their system to ensure that their employees don't fall into this category additionally and I'll say this for our colleague in the front our physicist colleague in the front he mentioned blockchain earlier and this is where I find the interdisciplinary nature of a PhD ceremony today particularly interesting because it is an area that I'm looking at as well to help see how tracing throughout a supply chain can be done because currently it's very very difficult but with blockchain with technology we're able to to do many different things so what I'll do is I'll leave you with a few concluding thoughts there are limits to the law we all want the law to protect us we all have very strong opinions sometimes about what companies should do and what they shouldn't do and they exert a huge influence on society and that influence can be very positive if we engage them in a way that makes them champions of sustainability and if we create an environment where we expect the same sort of engagement that you and I would have expect of one another and there are creative ways in the law to solve these problems I think the example of conflict minerals provides a very good example and I'm eager to see if I can convince some governments to try to adopt similar rules when it comes to providing for criteria within companies to consider statelessness within their supply chain it's been my absolute pleasure to speak to you today and I wish all of the graduates all the greatest success thanks so much applause 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 grazie thank you very much for this very 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 interesting and illuminating talk who knows in few years maybe one of our doctorate will help you in trying to convince the governments so maybe they think about it in a while bene allora siamo arrivati al punto in cui diamo diamo onore e visibilità ai nostri ragazzi ai nostri neo dottori e quindi adesso avrò l'onore di chiamare qui al tavolo di presidenza i responsabili i coordinatori dei vari dottorati io nominerò i dottori che verranno ricevere il loro diploma e nel frattempo il coordinatore avrà modo di congratularsi con loro e di consegnare loro il il diploma allora incominciamo procediamo in ordine alfabetico quindi chiamo la professoressa Sacchi a consegnare i diplomi ai dottori del 31esimo ciclo di dottorato in biotecnologie bioscienze e tecnologie chirurgiche comincio vuoi dire sì certo certo beh sali col microfono io se posso rubare due minuti e dire due parole vi posso esprimere il mio orgoglio nell'essere qui oggi per me è la prima volta da neo coordinatrice di un dottorato di ricerca e questa è una cosa molto importante a cui tengo parecchio perché si tratta di formazione e di alta formazione e fare ricerca con i nostri ragazzi e formarli a quella che è diciamo il principale interesse e poi anche della nostra carriera e della nostra vita che prende una fetta notevole di quello che è il nostro tempo vitale è veramente è bene che siano preparati a questo che sappiano cosa li aspetta sì però questo è veramente un onore quindi ringrazio tutti della vostra presenza ringrazio ringrazio la professoressa Negrini e ragazzi ringrazio voi per l'impegno che avete messo in questi anni la dedizione che avete dimostrato e a tutti voi adesso prima di consegnare i diplomi faccio i miei migliori auguri per il futuro grazie bene allora io chiamo e voi vi avvicinate al tavolo di presidenza la professoressa Sacchi vi consegnerà il diploma dottor Daniele Bruno dottoressa Elena Caravà dottoressa Paola D'Antona dottoressa Elena De Paoli dottoressa Stefania Gallo dottor Simone Parola grazie grazie professoressa Sacchi chiamo la professoressa Pozzo che consegnerà i diplomi per il dottorato di diritto e scienze umane certo allora chiamiamo Massimiliano Ferrario che ha anche l'onore della lode quindi complimenti doppi dottor Francesco Mascellino dottoressa Rebecca Monico anche lei con l'onore della lode dottor Alessandro Pepe grazie professoressa Pozzo invito il professor Caccia Massimo Caccia past coordinator dottor Caccia non è più da pochissimi mesi coordinatore del dottorato di fisica e astrofisica però è stato coordinatore storico animatore della scuola di dottorato quindi per noi un piacere che lui oggi sia qui con noi ringrazio ringrazio Daniele ringrazio tutti voi e sono decaduto scaduto come yogurt da poco e una cosa che grazie sentire come sempre sono stati sei anni quasi sei anni assolutamente impegnativi però sono stati sei anni fantastici tra tutte le incombenze pseudo burocratiche che un professore può avere l'onere l'onore di dirigere un dottorato di ricerca è certamente la cosa più bella che ti può capitare puoi fare tanto devi fare tanto ma lo fai veramente con una passione incredibile soprattutto perché ti accorge che le persone che hai di fronte hanno la tua stessa passione e un certo numero di anni in meno che aiuta sempre è una cosa meravigliosa veramente è stato eccitante adesso ho terminato i progetti non terminano mai per fortuna che ci sono già una serie di cose nuove all'orizzonte però ci tenevo veramente a ringraziare tutti voi ringraziare innanzitutto i nostri tre ragazzi dove sono che sono qua sono pochi perché i fisici sono vagabondi ed è un buon segno che ce ne siano pochi qua perché voglio dire che gli altri sono tutti in giro non che loro non lo siano loro viaggiano forse più degli altri però incidentalmente la loro traiettoria ha intersecato questo luogo in questo tempo e quindi sono capitati qui non per moto brauniano non per moto brauniano quindi grazie a tutti e una stretta di mano ai nostri ragazzi che andrò ora a riconoscerli dottor pietro anzini con l'onore della lode dottoressa claudia brizzolari dottor manuele tettamanti grazie professor caccia è la volta del professor donatelli che invito a consegnare il diploma per il dottorato di informatica e matematica del calcolo vuoi dire due parole? eh dai vorrei ringraziarli tutti penso di ringraziarne uno solo però va bene ugualmente perché abbiamo lo stesso problema dei fisici il mondo ci attrae spesso più di casa nostra e mi unisco semplicemente ai ringraziamenti dei predecessori perché sicuramente è più quello che voi avete dato e trasmesso a noi di quanto noi magari siamo riusciti a insegnare spero in questi anni però congratulazioni a tutti anche ai non informatici e matematici grazie Marco il diploma viene consegnato al dottor Marco Barozzi e ora la volta del professor Marco Cosentino che consegnerà i diplomi del dottorato di medicina clinica e sperimentale e medical humanities certo brevemente due cose la prima è che mi unisco alla considerazione fatta da Massimo al professor Caccia che è stata estremamente ispirazionale nel senso che concordo pienamente sul fatto che coordinare un dottorato di ricerca sia probabilmente uno dei compiti se non il compito più gratificante per un docente universitario e consente di unire nella maniera migliore il lavoro di insegnamento con il lavoro di ricerca che questo secondo è forse quello che ci ispira e ci guida maggiormente nel lavoro di tutti i giorni quindi grazie Massimo per averlo ricordato io non posso più unirmi a questo e anche per questo motivo io sono molto contento felice di essere qui e molto gratificato anche dal fatto di essere tornato per l'avvicendamento che all'interno del nostro collegio a coordinare questo dottorato dopo un triennio e però proprio per questo motivo voglio ricordare anche i colleghi che hanno coordinato e continuano a lavorare all'interno di questo dottorato e prima di tutto il professor Mario Picozzi che lo ha coordinato per il triennio scorso e con la supervisione del quale credo che la maggior parte dei dottori di ricerca che sono oggi qui presenti hanno raggiunto il diploma quindi va sicuramente ricordato tutto il lavoro del professor Picozzi che continua peraltro a guidare e coordinare un'area specifica del nostro dottorato e poi siccome il dottorato di medicina clinica e sperimentali in realtà ha una sua storia molto lunga non so se forse sia il corso più diciamo storico in senso tecnico mettiamo non sicuramente perché gli altri non siano altrettanto validi ma nasce da un da un corso di dottorato precedente che è quello in farmacologia clinica e sperimentale che si identifica a sua volta con il lavoro di ricerca del 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 dipartimento che oggi è di medicina e chirurgia insomma abbiamo dovuto un po' cambiare le denominazioni per le varie riforme ma nella sostanza c'è una piena continuità della ricerca nell'area biomedica e quindi è necessario che io ricordi anche il lavoro di coordinamento che sia sul dottorato di ricerca in farmacologia sia successivamente in quello di medicina clinica e sperimentale ha svolto e svolge anche la professoressa Franca Marino che è anche mia collega di istituto e quindi credo avendo doverosamente ringraziato nel in Mario Picozzi Franca Marino in realtà il lavoro di tutti i colleghi che fanno parte del collegio dei docenti e a questo punto credo che vada anche riconosciuto il risultato del loro lavoro nella persona dei dottori che sono oggi presenti grazie a tutti Alessandro Maria Ambrosoli Andrea Luigi Ambrosoli Paola Badino Dottora Aurelio Filippini Dottoressa Elena Montaguti Grazie Marco ora invito ora invito il professor Vizzulli a avvicinarsi qui grazie il professore consegnerà il diploma per il dottorato di metodi e modelli per le decisioni economiche e il neo dottore che riceverà il suo bravo diploma è il dottor Matteo Marini mi scusi professore voleva dire due parole mi scusi certo bene bene allora invito al tavolo di presidenza il professor Alessandro Michetti il quale consegnerà i diplomi per il dottorato di scienze chimiche e ambientali io sono neoeletto quindi in realtà il lavoro qui è stato fatto dal professor Masciocchi l'attuale coordinatore che finirà il suo mandato il primo novembre che ha diretto il dottorato di scienze chimiche e ambientali per sei anni quindi è stato un po' il fondatore dai due dottorati in chimica e ambientale è nato questo dottorato di scienze chimiche e ambientali che devo dire è molto interdisciplinare e i frutti si vedono diciamo sono buoni ecco mi sono trovato con alcuni di loro a lavorare con altri al concorso della selezione quindi per me è veramente un onore essere qui e potervi diciamo conferire questo titolo benissimo allora iniziamo iniziamo con il dottor Gilberto Binda il dottor Daliele Moschini cui è stata conferita anche la lode complimenti la dottoressa Clemence Robert il dottor Davide Spano la dottoressa Chiara Maria Vitale anche lei ha perseguito la lode complimenti adesso tocca a me mi aiuta lei io ho già parlato ho già detto ciò che pensavo di poter dire oggi aggiungo solo due parole perché il il dottorato è sì rappresentato dal coordinatore ma è costituito non solo dai dottorandi oggi dottori che lavorano sodo per tre anni ma è costituito anche da tutti i tutor e io mi sento davvero di ringraziare tutti i tutor non solo del nostro dottorato ma di quelli di tutti i tutor che lavorano nei dottorati del nostro Ateneo per il loro lavoro quotidiano per la loro assistenza a questi ragazzi che quindi insomma imparano molto dai nostri docenti e ringrazio tutti quindi sia i tutor che soprattutto i dottorandi perché senza di loro i nostri laboratori sarebbero davvero tristissimi e allora grazie anche di questo Allora leva Barbara Longo Fabiana Pellegrini Francesco Penna Federica Peroni Diana Trappani Davide Zuppone Stefania Bene Eccomi qua Allora la cerimonia nella sua veste più formale anche se molto piacevole è terminata adesso passa passiamo alla parte informale con il catering che ci aspetta qui fuori nella stanza qui prospicente ringrazio ancora tutti e di nuovo complimenti ai nostri dottori grazie 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 grazie